Questo video riguarda i migliori 3 batterie per smartphone. Il vincitore della qualità è l'LGB L45 F1F. Dati relativi alle prestazioni, l'Ion barra 3,85 V barra 2,410 Ma. Accessorio originale. Senza funzione di memoria. Grazie alla tecnologia agli ioni di litio, questa batteria per smartphone non ha effetto memoria. Ciò significa che, anche in caso di caricamenti parziali, la batteria fornisce un'autonomia completa e una tensione costante. Prima che una batteria lasci il nostro magazzino, ne controlliamo l'accumulo di tensione e gli eventuali difetti. Ogni batteria è munita di un codice QR univoco. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il quinto HBW Batteria. Batteria ricaricabile per smartphone, telefono, dispositivo multimediale ogni cella della batteria è testata. Sostituisce Gigaset V30145, K1310, X470. Batteria compatibile ad alta potenza capacità 800 ma tensione. 3,7 Venergia, 2,96 WH tipo di cella, Lyon. Conforme alle norme di legge cero HS protezione da cortocircuito, sul riscaldamento e sovratensione. Contenuto della spedizione. 1X batteria di ricambio accessori di VHBW. Il vincitore del premio è il quinta HBW GTN 7100. Batteria di ricambio per smartphone, telefono, dispositivo multimediale facile ricarica con il caricabatterie standard. Batteria compatibile ad alta potenza capacità. 3100 ma tensione. 3,7 Venergia. 11.47 WH tipo di cella, Lyon. Ricaricabile. Conforme alle norme di legge cero HS protezione da cortocircuito, sul riscaldamento e sovratensione ogni cella della batteria è testata. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.